Vedi dei sassi che non conosci? Che non riconosci? Grande Silvia! Vorrei essere come te alla tua età! Vieni! Vieni! Hai trovato un sasso che non riconoscevi? Vieni! Non riconosce più i sassi! Vieni! Vai! Non riconosce i sassi! e si sono cambiati di posto facciamo una più facile ah è l'unica vai dove ti porta il Fantic vai dove ti porta il Fantic si ce la passa a dire ce la passa e oggi si scivola parecchio non riconosci più i sassi è già lì Zampini perché è scivoloso usciamo la torrente andiamo di qua proviamo ti raccomando vedi la quiccia la terza la seconda su di qua seconda col Fantic in seconda è più da guidare la velocità è soltanto io e poi va fai dietro ma poi devi fare seconda ma poi tu di seconda non riconosci più i sassi devi parlare insieme che cazzo fai? che cazzo fai? ti ha detto che cazzo fai? la cazzo della Roma che mi ha dato il Zampini che cazzo fai? no sai perché ti facciamo andarti qua? perché tua moglie ti sta aspettando stasera no anche perché vedi che non stiamo in dirvi stai tradendo vedi qua che è caino o a bere? perché non si questo che è caino o a bere? no perché non si è ancora scaldata adesso si scalda tu non riesci più non riesci più vai tranquillo concentrato tranquillo e così così dicono il vizio è salito se prende il legno si stava portando sulla non prende il legno è già tanto che arriva qui? è già tanto che è arrivata qua prova d'agli un po' tirer nella cinghia con la cinghia qui qua con la cinghia solo a tavola chi fa? la mia caduta la mia è andata a campare l'aria e anch'io sono andato a campare l'aria dove è l'autostrada? eccoci qua è partito che voleva fare il lavatoio in lungo e in largo se Caino non riconosce i sassi è meglio fermarsi ok eccoci qua Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Praticamente i sassi, non sapevo più che non avevano. Voi ridete. Da dove c'è? Ti dice di non riedendo l'acqua. E poi tu volevi andare fino in fondo? Ma sei vero. Voleva. Oh, proprio non sapevo più distinguere i sassi. Caino non ne voleva sapere. Oh, il Nauan del Vureo. Beh, però qua. Erano tutti estracomunitari quelli lì. Sì. Ti hanno tradito questa stessa. Questa è tragica. Volevo andare fino in fondo ma neanche tornerlo. Forse è meglio che andiamo tutti. È meglio rischiare qua che andare fino in fondo. Oh, il Nauan del Vureo. Oh, che guarda, fa scendere l'acqua. Che cazzo sta facendo? Oh, ma non è che è più scivoloso del solito. No, è. È il pomeriggio. Non riconosceva i sassi. Capisiamo, però con tutti i picciari che metti giù. È cazzo. È il cazzo di roba che abbiamo fatto. È il miscuglio che ha fatto. Abbiamo fatto più fatica qua che tutta la mattina che ti ha girato. Ah, sì. Sai cosa ha fatto? È l'acqua. Che cazzo di miscuglio ha fatto? È una roba magica. Io le volevo andare fino in fondo. Queste sono per te. Esatto, vai. Sette cagliano arcanti, sette posti. Ma mangiamo un gatto. Già abbiamo mangiato il gatto. Però posso, se è andata. No, no. Fino in fondo va bene, ma qua non lo faccio. Vuoi fare un altro pezzetto? Andiamo giù. Andiamo giù di qua. Oh, senti, ma non pensavo che andavo dove volevo. Mi ha tradito, Caino. Caino mi ha tradito. Ma che faccio? Caino mi ha tradito. Sì, ma quando mi sono girato indietro, cagliano nell'acqua. Ma ma i sassi mi... Non riconosce i sassi. Io magari morivo da ridere. Eh, beh, ma... Eh, vabbè, devi capire che dopo aver bevuto la pochieria sua, cosa pretendi? Che ti ha rovinato qua. Non c'è il te. Non è bevuto un bel fondo. L'evidenza sul piano. Vabbè, è tutto a fondo. Fondo. È il fondo, ma quello buono... Non c'è più niente. Ma tu, la madrizza. Beh, non la madrizza. E tu, la madrizza. Non la madrizza. Oh, io sono partito. A canto solo. Sì, sì, io già. Lui si è boggiato la pianta, ha fatto perna, si è spostata, poi ti ha atteggiato. Eh, ma io sono partito. No, arrivo giù e non vedo nessuno. A un certo punto vedo questo e non dell'acqua. E mi fa i sassi miei qui che mi vengono in beve. E gli ho detto a lui, guarda, è meglio che tagliamo su perché questo non ci arriva il gasotto. No, no, io mi inizio il fuoco. No, sei tutto vicino a così. No, ma guarda, non ci arrivava anche... Ma hai chiamato un elicottero? Mi sta arrivando. Mi hai fatto come il Tony. La pronte via è vicino, ma questo qua mica da ridere. Ho mai visto un vicino del giro. Ma che domenica fa quando l'abbiamo fatto? Era vicino. La colpa di questo. Che cazzo mi scudo. No, perché l'abbiamo fatto la mattina. E che io non ho la... Stasera va a casa e fa, come si chiama, Mirandola. Tu vieni a Calavala, in teoria tu vieni a Calavala, a me. Sì, Mirandola ti chiedo scusa ma quei bastardi. L'importante è che il panettone se è seduto non c'è dentro un regno come c'è da via. No, ma andava dentro anche quello. Ostia. Entrava. Ma che gliel'ha messo qua? Cioè, ma uno come te che voleva andare in fondo. Cosa facciamo? Ripartiamo? Volevo andare in fondo. Faccio benzina, andiamo? Faccio benzina, andiamo. C'è qualcosa che non quadra. Facciamo benzina, andiamo. Facciamo ancora... C'è qualcosa che non quadra. Non so, se è il torrente vicido o quel cazzo di cosa che vanno a fare gli spaschini. Hai bevuto? No. Ti hai bevuto? Hai bevuto cos'è? Ma al fondo. Tu, tre, otto, quattro e tu miscugli. In fondo. Quei cazzo di caffè chissà cosa c'era dentro quella l'aninetta che cosa ha messo dentro. Ma il miscuglio. L'aninetta quando gli abbiamo detto che tu fai così chissà cosa ha messo dentro. Il miscuglio era buono. Ho bevuto un tre o quattro a rinno. Ma se abbiamo due. cazzo di caffè e dormo come i bambini con le gambe per aria. Ma ti ho detto come vieni da calavare la moto. Mi sa che. Otti la mia la moto. E' bitato. Vabbè, il metà l'è già lavato nel torrente lì. Tanto la copertina ce l'è sicuro sul zucchio. Ti si tirano sulla copertina e te stai e basta. Ma la faccia che vado sulla quadri per terra. Mi guarda ma mi sa se mi ha guidato. il problema non è grosso. No, io ti arrivo. Perché ti piace. Prova a farlo salire. Scendi giù dal ciclamento e lo fai venire in casa. Vuoi provare a fare altri 50 metri? No, no, no. Rinuncio. Facciamo una cosa. Carichiamo la moto e ti porto a casa. Rinuncio. Vado a casa se il tegno e ho deciso di portarmi a casa. Se no la carichiamo su la porto a casa. Ma perché adesso sei qua in moto. Eh sì. Se no la carichiamo su ti porto a casa. Adesso non fai c'è niente col pietro. Ti accompagniamo a casa. Ma il Pietro l'ha ancora seduto sul carretto. Ma non ci facciamo idea. Pietro mi viene di. Te non ti portiamo fino a casa. Non ti facciamo idea la sua moglie noi. No, no. Ti scalica tu al nascosto. Secondo me questa sera c'è 10 persone. Mi dormi. Perché fai dei video di un chio e ti sento posto. Ti ha detto mi lavora anche. Ti accompagniamo a casa a un pezzo per i boschi. ho visto certe facce sull'idea che sono piccoli. Ti dico stai attento al Pietro che arriva perché se arrivi ti parli in gilette perché qua è peggio di te. Qua hai visto dove l'ha seduto? Su un motocarro ancora. Sul perro. Ti hai visto come l'ha fatto? Gli ho detto a Pietro guarda che ci sono delle bottiglie da bere. Che lì va a finire. Ho visto che lui è traficato.